Madonna l'oggetto più utile che esiste Che figata però Tutta un'altra cosa rispetto a Breath of the Wild Al momento sono in giro per il mondo alla ricerca del tesoro di Lambda Il bandito leggendario Il potere più forte del gioco Space gamers benvenuti a questo nuovo episodio di Zelda Tears of the Kingdom Allora ragazzi Ho iniziato a fare la mia prima esplorazioncina off camera E' solo che ho fatto un piccolissimo errore che spero di non fare Ovvero mi sono addentrato quasi nel castello E ho incontrato il capo della spedizione che era venuto a cercare Link e Zelda Abbiamo fatto un piccolo dialogo niente di importante Ma si è vista Zelda Si è vista Zelda per un attimo che ovviamente non ha parlato Ma sembra Adesso mi avvicino un attimo di qua Eccola là ragazzi Sembrava puntasse in quell'isola volante lì Non ne sono sicuro perché si vede che tipo ascende E a me è sembrato che puntasse quell'isola là Siamo venuti a parlare con Pruna Che ha detto che Non è abbastanza ragionevole in questo momento andare nel baratro del castello Quindi dobbiamo studiare meglio il miasma e quindi dobbiamo andarcene in giro Negli altri villaggi Negli altri popoli A vedere che cosa è successo Che cosa è successo lì Adesso forse riusciamo anche a sbloccare la... Esattamente Riusciamo a sbloccare la torre Sei pronto? Io ho appena finito con gli ultimi ritocchi Ora il dispositivo di trasporto dovrebbe funzionare Quindi non le scaviamo più le torri? Direttamente se ne vogliamo sopra? Qui siamo pronti Tira pure la leva Vediamo come funziona Mi sa molto di Signore degli Anelli questa cosa Come se avessimo lanciato un segnale d'aiuto Adesso tocca a te Link Dobbiamo andarcene in giro Puoi appoggiare la tavoletta su quel terminale Vediamo come funziona La torre topografica è stata registrata sulla tua tavoletta E questo è il punto di trasporto Si tratta di un meccanismo di tornare sulla piattaforma Sì vabbè lo sappiamo come funziona Ma questo non è l'unico pregio delle torri topografiche Attenzione La funzione principale delle torri topografiche è quella di sondare l'area per creare una mappa della zona E anche questo lo sappiamo Ma ricorda che per fare le scansioni occorre sorvolare la zona con una paravela Datemi la paravela E chi sa usarla meglio di te È per questo che finora non abbiamo ancora potuto testare il funzionamento Quindi ecco È per te prendi Madonna l'oggetto più utile che esiste Prima di tutto facciamo una scansione di prova Dovresti farti lanciare Oh bellissimo Completamente nuova Vediamo come funziona Bellissimo Bellissimo È stranissimo E quindi noi vediamo dall'alto la mappa e quindi la segniamo Questo ha senso Holy shit Che figata però Tutta un'altra cosa rispetto a Breath of the Wild Anche se tecnicamente la mappa dovevamo già averla segnata Giusto Mappa registrata Perfetto Ora siamo in cielo Aspetta Quindi abbiamo più mappa Esatto Cielo Bellissimo Abbiamo cielo E terra Però c'è anche il sottosuolo Anche Adesso noi vogliamo così Madonna che bello Guarda che bella Guarda Guarda quante isole stanno Dio mio Bentornato Mica male il tuo volo Non mi sarei aspettata niente di meno da te Link Allora come è andata? Sei riuscito a fare una bella scansione della zona? Benissimo Da questo momento in poi la mappa sarà un elemento determinante per le ricerche In ogni regione del mondo sono state installate delle torri topografiche E ora possono essere usate tranquillamente E adesso ritorniamo al nostro discorso Questo non è l'unico posto che porta i segni del cataclisma Al momento ci sono vari punti di Hyrule In cui sono stati rivellati fenomeni anomali Potresti mostrarmi un attimo la mappa? Ok Vediamo un po' dove ci segna Oh oh Belli lontani Già iniziamo Saranno 4 punti immagino Esatto Esattamente Un po' come i colossi Non ne ho certezza Però la sensazione è che potremmo ottenere utili indizi sulla principessa Zelda Investigando su quegli strani fenomeni A proposito dottoressa Pruna È solo una voce Però sembra che qualcuno abbia avvistato la principessa Zelda al borgo di Rito Nella zona nord-ovest di Ebra Una voce Capisco Trappola In generale non mi piace agire in base a informazioni non verificate Ma dante le circostanze potrebbe trattarsi di un indizio di importanza cruciale Oh Link Scusa stavo quasi per dimenticarmene Stiamo richiedendo al giornale di collaborare alle ricerche per trovare la principessa Zelda Non c'è nessuno più aggiornato di loro In quanto ha notizie su Hyrule La sede del giornale è davanti all'ingresso al borgo di Rito Se ti trovi da quelle parti Passa a salutare la direttrice Ti aiuterà di certo Porterò avanti le ricerche sui baratri E sulle rovine cadute in seguito al cataclisma E studierò anche gli insediamenti E i luoghi frequentati da molte persone Per trovare degli indizi sulla principessa Contro su di te Link Devi indagare su quei fenomeni anomali Sono sicura che ci permetteranno di sapere di più Su dove si trova la principessa Zelda Perfect Io direi di fare il giro Come l'ho fatto in Breath of the Wild Quindi partiamo Dal Penso che qui ci sia il villaggio Tipo degli uomini pesce Li chiamo così perché non mi ricordo come si chiamano Poi qua ci sarà il vulcano Sicuramente Ok Dobbiamo fare Questo giro qua Bene possiamo iniziare ragazzi Possiamo iniziare L'esplorazione Possiamo iniziare l'avventura davvero E direi di dirigerci qua Questo è il primo punto Ovviamente ci fermiamo Dove più ci piace Là già vedo una caverna abbastanza sinistra E che fai? Lasci là Resource 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 Ecco una cosa importante che devo fare Nella mia esplorazione Ho dimenticato dove è Asdrubale L'ho lasciato forse all'ingresso Eccolo Madonna Asdrubalino Che bello Mi sono ricordato stavolta dove sei Dove vai Asdrubalì? Non cadere Iniziamo da questa cavernina Che mi ha tirato molto l'attenzione Mi sa che qua dentro sta quella Quella cariatura Strana Cosa Sei Mi son caccato sotto Cosa sei Cosa siete Chiudo Sto tantissimi Modocca è parata A pezzi Chi è? Ma che siete? Fatevi sotto A pezzi Mamma mia No Lo scudo Mannaghi è vero Hai due mani questa Aiaiaia Mi ha fatto Il mio legno Si è spaccato C'è una lancia Troppo lunga Quello Fate chiare amicizia lunga Voi Scendi 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 pezzo Ti faccio scendere Io ho capito Ti è Vado Ho distrutto Via qua tu Vuoi scendere? Ehi Hai rotto le scatole La pietra qua A posto Muori 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 E muori Beh la labarda infinita Me la prendo io Cassa per noi Corno di Obroblin Sono sempre comunque Della famiglia di Boblin Però almeno Hanno un design Un design Diverso E sono anche Combattono in maniera Diversa Cos'è questo? Una cavalletta Ma so fregata Vediamo cosa c'è Nella cassa Tiena Qualcosa di carino Lancia chiudata Beh le lancia ragazzi Sapete che sono la mia arma Preferita in assoluto Quindi Eeeh Sei Martello con roccia Dai Nella mia esplorazione Ragazzi mi sono anche Eeeh Fatto un paio Anzi Tre sagrari Molto semplici Raga Perché erano Praticamente il tutorial Dicevano Come si fanno i perri Come lanciare gli oggetti Cosa insomma Che chi ha giocato Eccolo Sapevo che c'era lui Perché abbiamo visto Quell'esserino Fuori dalla caverna Raga Bene Arcoboblin Si sta per rompere Fantastico Ma io non ho capito Che sei tu Ehi qua No Sparisce Dobbiamo capire A chi dare questi emblemi La cosa figa Di questo potere È appunto Fare questo Ficcarsi una caverna E vedere dove si sbuca Dove siamo finiti Perché sta piovendo Siamo stati cinque minuti Là dentro E il finimondo Sta qua fuori Ma comunque Siamo sbuccati In un posto Che è Abbastanza normale Però che abbiamo La paravela Raga Non bisogna Prendersi più Paura Di andare Da nessuna parte Ma neanche a te Quanta strada Mi stai facendo fare Meno male Seme Gorugu Anzi Gorogu A Sdrubale Dove sei? Andiamo a Sdrubale Abbiamo un sacro Da fare Abbiamo anche Una torre Lì Raga Si parte Si parte Ma in realtà Il Sacrario Mi sembrava più vicino Ma in realtà Parecchio lontano Ma molto lontano Quanto dobbiamo morire Qua dentro Raga Tantissimo Ai 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 Boblin Vediamo un po' La nostra lancia Infinita Raga quanto è lunga La lavarda Caccia di fuoco Pazzi Pazzi Raga è lunghissima Sta cosa Fatevi sotto Ora la barda Infinita Eeeh Lo scudino eh Che rinforzi Oh oh Eh lo sapevo Che c'era quello grosso Porca Eva C'è anche quello nero Raga di solito Quello nero È sempre più forte Quello grosso Non c'è più a grado Vieni qua No la lancia infinita Beccati questo Aia Vieni qua Aia Aia A pezzo Tu Satti Muori C'è la corazza Questa Raga è bellissimo Come gliela levo la corazza Preccia di fuoco Non se ne è fregato Niente Preccia esplosiva L'avevo levata Sì L'avevo levata la corazza Raga Vieni qua Oh Oh A pezzo A pezzo A schifoso Lei ma ti ha sdru Nel culo Gli ho sparato Bello quello con la corazza Raga Abbiamo stato attenti Che quelli grossi One shot Hanno Ho già provato A pezzo Levo Ok Aspetta che mi diverta Aspetta aspetta Vieni qua No aspetta aspetta Volevi eh Volevi Oh Attenzione Oh la carica Ti ha scontrato Dove vai Oh Ma perché mi disagrano così tanto Oh Il culo ti sparo eh Che sta prendendo raga Sta andando a prendere qualcosa Sicuro sta andando Ma sto figlio di buona No Che volo hai fatto A casa Deconstruuto L'abbiamo Deconstruuto Perfetto La conserviamo un attimo La usiamo In casi estremi Ci sono tre casse Saranno risorse E poi c'è anche quella grossa Sempre Sempre bene Va bene anche questa Qualcosa di carino Martellà del Linux Ce l'abbiamo già però Mentre a lui Dobbiamo liberarlo Torna a casa Frate Carne al sale Meglio di niente Grigliata mista Meglio di niente Tonico fattato Meglio di niente Allora non vorrei Cioè Quella Raga Sembra molto lontano Quello Estremamente lontano Quindi facciamo così Facciamolo perdere Andiamo a quello Che sembra molto più vicino E c'è anche una torre La La a fianco Quindi Ci serve Anche se credo Che stiamo andando In una direzione Completamente opposta A quella Che dove dobbiamo andare Perché dobbiamo andare Di qua E stiamo andando Di qua Però è così vicino Raga che Non vale proprio La pena Di Di mancarlo Infatti siamo già arrivati Subito Subito Qua c'è anche un accampamento Di Boblin Secondo me c'è anche Una cassa Scommettiamo Prima sblocchiamoci Il sacrario Perché in caso Dovessimo morire Almeno abbiamo Il tp qui Una robusta Fissazione E fin qua ci siamo Allora Da quello che ho capito Dobbiamo Buttare La palla Là Ci abbiamo anche L'altro qui Oh no Eh se Questo Tecnicamente si gira In che modo Non ne ho idea Devo solo capire Qua che cavolo serve C'è questo coso no Questo gira Però non è abbastanza lungo Per colpire la palla Forse dobbiamo mettere I paletti qua Ok si Possiamo attaccarlo Let's go Ma sapete che c'è Meglio a bundare Raga Facciamolo più lungo Possibile Non doveva finire così Beh almeno abbiamo Riacquistato i cuoli Senza mangiare Dai Appecca Appecca Perfezione Ora Tecnicamente No Dovrebbe funzionare Si spera Vediamo un po' Vai Mazza Pinball Oh Si è girato il signor Fritz Aspetta Mi sa che questo Può entrare Qua dentro Troverò Fermo Fermo Esattamente Quanto godo Si potrebbe Ficcare E non rompere Le scatole Signor Cuso Ok Tecnicamente Dovrebbe rimanere Uh Dobbiamo proprio Farlo all'ultimo Ultimo Ultimo Godo Siamo troppo forti Troppo E cosa ci dai di utile Qualcosa di bello Ti prego Pozione Leva fatica Carina Ho messo tipo 20 minuti Però Ce l'abbiamo fatta Ehi Ma questa Giusto Fantastico Posso Sfera di energia Zona UXL Ok Queste sono batterie extra Allora qua abbiamo anche la torre Che andiamo a prendere subito Ah è dentro un accampamento Quindi Dobbiamo farci anche l'accampamento Ci sarà quello grosso sicuro Come al solito Ci sono quelli scuri Attenzione Eh si Hanno già molti più HP Sta arrivando qualcosa di Pesante Oh oh Ci sono gli sperlunghi Mi pare esagerato Dai tizetto Ma quanto godo Come va? Dove sta andando? Ma oi Prendi la clava Ah pezzo Devo Vieni qua No Non prendi la clava Non te la faccio prendere Muori Grublin Ci sono i grublin Ho detti anche i boblins Per lunghi Ok siamo arrivati dentro Fermo Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Ma esplode Ah 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 Aiaia Uuuu Quanto mi ha elevato? No quello corazzato no Porca Molto bene Porta, fatevi sotto C'è quello corazzato, raga Quanti danni abbiamo fatto Ma incornato Pezzo di vomito Meno male che abbiamo il sacrario qua Adesso la mia domanda è Saranno tutti respawnati? Mi sa di sì Eh sì, infatti sì Prego, prego Venga, venga Oh figlio Buona donna Che volo Perfezione Forza, prego Forse avanti Ma che mangi? Ma che mangi? Soldatino Vieni qua, vieni Ti devo dire una bella cosa No, aspetta, non con questo Difuso Gli ho distrutto la corazza Perfetto Ok, andiamo No, 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 no Aiaiaia 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 Io ho detto che le armi grosse a me non piacciono Se ne sono andati Vieni qua Brucia Lo scudino Emo ti becchi questo Emo corri No, c'è quello grosso Ma porca Sapete cosa dobbiamo fare adesso? Così Adesso anche Adesso anche Non lo facciamo troppo di spavaldi Non so perché mi disagrano così velocemente Ce ne sono un po' troppi comunque Non vorrei dire Oh, vieni qua Oh, no Mannaggia A te È caduto e muori Godo La rischiamo? Rischiamola What the... Cuore bobbling Tutto mio Tutto mio Tutto mio Tutto mio Tutto mio Tutto mio Bello questo Questo è forte Ops Chi è il più potente? Tio Pim Via Disagratemi Grande strategia E adesso Pim Ce l'ho fatta stavolta E stati zicco e fermo Abbiamo un grossissimo problema Abbiamo finito le armi piccole L'edizione Ok A noi due Porca Eva Eh, lo scudo di andante Si è rotto Fantastico L'incornata Cretino Dove è lo scudo? Dove è lo scudo? Dove è lo scudo? Beccati questo Oh, che miseria Anche la spada si sta per rompere Fan cooler Via È caduto quello grande Uh, peccato Attendiamolo Sta salendo? Mi sa di no Dove è? Secondo me è ritorno È ritorno È ritorno È ritorno È ritorno È ritorno Non mi dire Sei full HP Mi fai imbestialire Dai ragazzi È ritorno Full HP Ma che è Sta schifezza Dai Non è giusto Non è proprio giusto Comunque Non rileviamo Niente Tiè In testa Facciamogli un attacco Al volo così Scudo poplin rotto Ne prendiamo un altro Questi sono scudi Molto scarsi Che possiamo buttare Ah fan culo Muori Muori Guarda quante belle cose E le Gran clava massiccia Non mi piace Quindi La faremo Mia In questa maniera Ta ta Ba hum Il deconstrutto Vabbè Consoliamoci con questo Ma io mi chiedo Se io mi posso tippare Sulle torri Mi tipperò Addosso i nemici Adesso Oppure qui Non rispawnano Spero non rispawnano È fantastico Come Come mappiamo La mappa Beh Una bella porzione Di mappa Abbiamo fatto Allora È meno Comodo Questa cosa Devo essere sincero C'era molto più comodo Stare sulla torre E quindi Guardarsi intorno Vediamo se riusciamo A farlo Con calma Con calma Con calma Perfetto Ok Possiamo comunque Diciamo In un certo senso Farlo Sacrari Ne vedo Tanti Ce ne sono Veramente Veramente Tanti Però noi ci stiamo Completamente Allontanando Dal luogo Della missione Ci saranno episodi Di questo tipo Ragazzi Episodi Completamente Tra virgolette Secondari Ma il gioco È questo Quindi Dobbiamo Esplorare E scoprire Il mondo Dovrei andare Là Esattamente Se io vado qua Mi sblocca Tutto Questo Allora Non voglio fare Lo stesso errore Di Breath of the Wild Ragazzi Perché Breath of the Wild Io sono andato Dritto Dritto Alle missioni E non ho esplorato Così Tanto Quindi Ci saranno Molti episodi Dove Esploreremo Ragazzi E questo È uno di questi Andiamo a farci Quel sacrario Lì Ci saranno anche Parti off camera Come quello Che vi ho raccontato Nel primo episodio Cioè All'inizio di questo episodio Perché per l'appunto Ragazzi Fare tutto 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 In video È impossibile Cioè Non è che è impossibile Che ci metteremo Tipo 50 episodi E Non va molto bene Ragazzi Chi mi ha colpito Si sono vendicati Mi sa Era un attimo Assorto nei miei pensieri Perché ho detto Ho dimenticato qualcosa E voi avete capito Cosa ho dimenticato Ho dimenticato A sdrubale È mai possibile Che ancora Non ho trovato Una stalla Per rinominare Il cavallo Sono un'escordo Ragazzi A sdrubalino Tu dovresti Estare qui Vero Guardalo Guardalo Quanto è fiero Sicuramente Nel prossimo episodio Perché Cosa ho fatto di male Nella vita Perché sono esplose Le bacche Non mi avvicino Mai più A quelle cose Mai più Andar bene in giro Con le costruzioni Anche sarebbe divertente Ragazzi Però vorrei capire Se c'è un modo Di Per comandarli Ho visto nei trailer Che si poteva fare Quindi Ancora non abbiamo La funzione A sdrubali Fermati Cos'è Ciao E E quindi E' tono To' qui Esamina Ma lo t'ho fregato Sapevo che di tu Mannaggia te No Vieni qua Maledetto Ciottato Salve Ah che bello Salvi la gente Ragazzi Ti dà il cibo A me va benissimo Serve un sacco il cibo Mi piace Attenzione Al momento sono in giro Per il mondo Alla ricerca del tesoro Di Lambda Il bandito Leggendario Ho sentito dire Che il tesoro Che cerco Si trova in una grotta Qui vicino Ma questa Benedetta grotta Non riesco proprio A trovarla E' un problemone Visto che sono tenuta Visto che sono venuta Apposta Forse dovrei cercare Da un'altra parte Grotta Va bene A sdrubali Abbiamo una missione Do stai a sdrubali Ecco Che dolore Madonna Che male Che male Accidenti a voi Ai 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 Sogno come fermarli A schifo Ti brucio la carrozza Cretino Devo combattere Certo che devi combattere No non voglio uccidere il cavallo E' come a sdrubale Ma tu Andiamo Combattiamo Uh uh Cretino Ho shottato Ma che arma ho creato Devo combattere Però sei stata ferma Alla Ho liberato il fratellino Hai visto Non se ne frega niente Il mio cavallo Manco un po' di gratitudine Manco Dai miei destrieri Cerco il mio amico Oh porca miseria Quanta roba Grotta Grotta Fermi Fermi Che qua Proviamo qualcosa di interessante Forse Non i pipistrelli però Questo gioco mi odia Posso non morire 5 minuti? Via to E via to Andiamo un po' E qua Che cosa c'è? Ewewewewe Questo è molto interessante No 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 Madonna che schifo Vi odio Vi odio Perchè tutto ciò che vedo Mi vuole uccidere? Ragà non riesco a uccederli Che devo fare? Mi hanno preso di mira Proprio Ragà ho c'è Sono dei pipistrelli elettrici No però eh Non ce la faccio Non si può fare Non si può fare proprio Tirevano le armi Non puoi colpirli Porca miseria Quanto mi danno fastidio Sono veramente la cosa più odiosa che ci sono Le cose elettriche Sono odiose Madonna Madonna La vendetta Posso raccogliere le mie cose adesso Ah questa è bello Occhio per il pistolo elettrico Mannaghi Mica c'è un semibomba qua Meno male Meno male che non l'ho colpito Se morivo di nuovo Raga impazzivo Ah praticamente dobbiamo proseguire di qua Qua mi serve Una lama che non ho No Non funziona così Funzionerà così Funzionerà così Mannaghi a voi Rampi la testa Rampi la testa Perfetto Perfetto No la mano non la voglio prendere Però la prendo solo per Per scoperta ecco C'è qualcuno Quello è molto fastidioso Raga Io questo non so come si uccide Raga Sincera A parte che è fatto Ah forse dovrei solo schivarlo Mi sa Ah fanculo Porca Ogni cosa mi uccide Siamo tornati qua ragazzi Dobbiamo capire bene Io voglio capire un attimo se si può parare la roccia Fammi vedere Si si può parare Perfetto Avanziamo allora Perfetto Non ci interessa quello Non so come si uccide Oh porca Eva Dovrò scoprirlo forse Vabbè abbiamo raccolto Semi bomba ragazzi A sto punto Direi proprio Ok Boom Non si è preso Un danno Beh non è così difficile Uccidere Vado Aspetta aspetta Qualcosa di più forte Ok Perfetto Vado 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 Ma no Che è più potente Una cassa gigante Che tristezza Ma che tristezza Madonna Aspettavo chissà che cosa Avessi fatto la cosa della vita Rompi tutto Link No eh Bravo Link Oh E' questo il tesoro ragazzi Per forza Vorrei tornare anche Dalla tizia Per vedere se Era questo Quello che cercava Che bello Che bello Non devo più penare Per l'elettricità Fune di fuga ragazzi E' anche più forte Quindi io la userei anche Bellissima Bene Ci siamo già upgridati Vediamo il sacrario Lezione di lancio Oh è un altro tutorial Questo Possibile Ma l'abbiamo Ma l'abbiamo già fatto Cioè non In video L'ho fatto off camera Questo Devo seguire Quello che mi dice Di fare Prendi bene la mira Poi lancia l'arma Verso il nemico Ah qui L'arma Mentre in quello Che ho fatto io Dovevo lanciare gli oggetti Allora io non voglio Buttare le mie armi Oh si Beh il braccio Non mi è mai piaciuto Cioè Cos'altro dobbiamo lanciare Senza farti confondere Ok adesso lo dobbiamo Buttargliela In movimento Però prendiamo un'arma Che ci danno loro Prendiamo questa Ah bello Deca Deconstrutto Erano questi Sacrari Che ho fatto off camera Semplicissimi E soprattutto ci da anche Un arco molto buono Una spada anche carina Anche se dura pochissimo Ci da cosine Che è Buttare Non si butta via niente Vediamo la cassa invece Ci da la lancia Va bene Purtroppo hanno Pochissima durevolezza Queste armi Però le usiamo Magari ci mettiamo Qualche bomba Sapete cosa facciamo qua Qua mettiamoci Una puntina Che ci mettiamo Persona E i tembri Li possiamo mettere Penso abbastanza Sono le Le puntine Che non possiamo Metterne Ricordiamoci Che qua Ah qua c'è un carretto Ok Ricordiamoci che Qua c'è Questo tizio qui E noi Andiamo verso La meta Prefissata Per chiudere L'episodio Ovvero La torre Lo stallaggio Asdrubale Avrei un nome Effetto massimo Asdrubale 20 rupie Che culo Oh gratuita Che culo Due Perfetto ragazzi 9 su 9 Asdrubale Essere a punti Essere a punti stallaggio Questo è nuovo Abbiamo dei premi Con cui poi Possiamo sprecare I nostri punti Vediamo cosa C'hanno Bardatura da tiro Se prendiamo Un altro punto Quindi possiamo Dormire 20 rupie Che culo Troppo culo Abbiamo Fino al mattino E con questo Ci dovrebbe dare Un altro punto Forse Mi pare di aver capito Così Punto 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 Yes Vediamo un po' Che cosa Ci danno Bardatura da tiro Abbinata a una sella Se colleghi a un carro Un oggetto Della parte Possiede la bardatura Il cavallo Potrà trainarlo Beh possiamo Adesso In un certo senso Guidare le costruzioni Che facciamo Tessuto Del dio Dei cavalli Posso usarlo Alla tintoria Del villaggio Fin terra Due punti Però Vabbè lo facciamo Però un'altra volta Io non ho più soldi Fratelli C'è un altro sacrario Qua Buttiamoci qua dentro Oh mio dio Che fulmine Ma bottati subito Quei link Veloce Proprio Gioco Dell'equilibrio Ok Che non è un tutorial Questo Il centipede Ritornato Mi sa di se Cioè Mi hai fatto fare Quello del paintball Che ci ho messo 25 minuti A farlo E poi mi fai questo Scusi Si può Mettere al contrario Grazie Chiedo eh Per un amico Mannaggia Ce l'ha fatto Ce la faremo Ce la facciamo Dovrebbe bastarcene una Mettiamo prima qua Così andiamo a prenderci la cassa Let's go Finalmente Abbiamo la batteria infinita Qua Nei sacrari Nice one Scudo che ho dato Bella cacata Siamo fortissimi Abbiamo sia un cuore Che un vigore Dobbiamo solo trovare Una statua Ok Ora possiamo andare Davvero Alla nostra meta Ovvero quella torre Che sembra vicina Sembra Ok Qua ce ne abbiamo un altro Segniamo sulla mappa Che credo in realtà sia Sia lui Sapete Siano collegati Però non si sa mai Questi me li faccio off camera Ragazzi Oppure Non lo so Me li dimenticherò Allora Sdrubalino Io ti voglio tanto bene Però con te Dobbiamo sempre seguire la strada E io potrei Tagliare molto più velocemente Di qua Quindi aspettami qua Ok Sembra abbastanza sgombera L'area In realtà no Perché c'è lui Abbiamo anche Una grotta Abbiamo un bel po' di cose qui Tra cui anche lo spiritello Che sicuramente Adesso se ne andrà nella grotta Guardalo Guardalo Esattamente Lì abbiamo anche Un super giga Mega disegno Sul prato Prima di affrontare lui E chiudere l'episodio Sblocchiamoci la torre Torre della China No È chiusa Non dirmelo Sei qui per vedere la torre topografica Ti chiedo scusa Sempre che ci sia un piccolo problema Lo sapevo Mi era stato detto che il termine della torre topografica era rotta Così sono venuto a ripararlo Ma Non so perché ma la porta non si apre Non riesco ad entrare nella torre topografica Non è chiusa a chiave Però per quanto abbia provato a tirare o spingere Non si muove di un centimetro Sì lo so che è una porta scorrevole Non sono così stupido Cervellandomi ho bruciato troppe calorie Adesso ho fame Penso che andrò alla caverna qui vicino a raccogliere funghi C'è una caverna alle pendici della collina Andavo spesso lì in cerca di funghi Quando la torre topografica era ancora in costruzione In realtà il golem lo potremmo affrontare Perché se noi spariamo là Lui dovrebbe cadere Sapete E' ingaggiato Godo Minchia rega quanta vita c'ha Ok Un andato No L'arco si è rotto Dovremmo arrampicarci Come si si arrampica adesso qui? Non ho idea Forse un'idea ce l'ho Tutto si risolve Con Il nostro caro fuoco Invece no Dai Non è possibile Un è andato Anche l'altro è andato Come cavolo ti fermo a te? Se no posso fare così guardate Forse è più intelligente questo Olè Che mira Forca miseria L'idea era buona L'esecuzione un po' meno Allora Cosa è intelligente da fare? Questa Fai così Non l'ho preso Fai così E ti butti qua Olè E lo massacri proprio Potentissimo E poi via Che buono ho fatto Tu lo fermi così E sali su di lui Prendi l'arma più forte del gioco No Non è questa È questa E ti fai una bella Rotteata Pam 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 E poi Oddio Che buono ho fatto E fai così Grande Link È il privellone Chi è il più forte? Non io perché sono morto prima C'è qualcosa di carino? C'è un suo pezzo ragazzi Attenzione Attenzione Abbiamo un cuoricino Ora io dovrei entrare qua dentro Sperando che ci sia qualcosa Per sbloccare La La porta Chi c'è qua dentro? Boom Esbada Bremete Quanti sono? Boom Esbada Broom E poi Ricatapapapapapam Anche il boss qua Distrutti tutti Belli Mi piacciono questi Hobroblin Scudo dell'autodifesa Molto interessante C'è tantissima roccia Raga Veramente tanta Potrebbero esserci Anche altre strade Giustamente Posso fare così Il potere Più Forte Del gioco Però Space Gamers Io direi di chiudere qui Questo episodio Perché la registrazione Sta venendo molto Molto lunga E quindi Onde evitare di fare video Estremamente lunghi Soprattutto video di esplorazione Che vabbè Che con il mio montaggio Che Lascio soltanto i momenti salienti Taglio moltissimo Però comunque Se registro 3-4 ore Mi è difficile Racchiudere tutto In 40 minuti Quindi Mi fermo qua ragazzi Ci vediamo al prossimo episodio E come obiettivo Ci diamo Per l'appunto Arrivare qua Sarà dura Farò un po' di strada Off camera Mi avvicinerò E poi Nel prossimo episodio Entriamo in quest'area Vi saluto E vi do appuntamento Ad un prossimo video E vi do appuntamento E vi do appuntamento